La patente di categoria B consente di guidare un'autovettura che trae un rimorchio con massa del complesso veicolare pari a 4.500 kg. La patente di categoria B consente di guidare un'autovettura che trae un rimorchio con massa del complesso veicolare pari a 4.500 kg. Qu'è una dinamaca e che traine vi ha un'autovettura e ciarани c'è un'e d'ora da v rewarding sàdi c'àr tàng tu z'yadha ho saktè e o z'yadha boae vizun e di waje tu hai falsou hai soal. Falsou Keren Tardeshaab na B patente ni kitna wazan lejja saaknè ha? Sar ji 32 uf n' jiha. Hey 35 uf jha ha. Teh students Tardeshaab na bin s'u oal falsou yee. Sarji falsou yee. Va 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 va. Alla prossima. Sajji vieni a te, se tu bicià e raffa, se tu bicià e raffa. Acha, c'è l'abbai, molto nice, molto, mi allà. Impianto Scari con cosa è? Impianto Scari con il Saloncer. Saloncer System. RCA cosa è? RCA è il suo nome, è il nostro obliquato. il nostro corso